Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sono Laura Lelli, responsabile del servizio comunicazione del comune di Casalecchio di Reno. Lascio subito la parola a Sofiana Arbacchione, responsabile di Informazione Libera Bologna per la presentazione degli ospiti di questo workshop di giornalismo fra diritto di cronaca e privacy. Ringrazio intanto la fondazione e l'ordine dei giornalisti d'Emilia Romagna. Grazie Laura, buongiorno a tutte e a tutti. Questo è il secondo anno in cui come Libera Bologna insieme a Politicamente Scorretto organizziamo un seminario per giornalisti e giornalisti. L'anno scorso abbiamo parlato di come raccontare mafie e criminalità sul territorio e non solo e quest'anno anche pensando al tema di questa edizione di Politicamente Scorretto, libertà di pensare e diritto di sapere, abbiamo deciso di ragionare appunto sul diritto di cronaca ma anche quello alla privacy. Ovviamente subito ci è venuto in mente un tema che è molto attuale in questi mesi, quello della riforma cartabia e come va a impattare appunto sul diritto di cronaca. Anche come giornalisti e giornalisti penso che sia sempre più difficile capire come muoversi e quindi abbiamo deciso di parlarne con chi si occupa in prima linea di questi aspetti. Quindi grazie a Silvestro Ramunno, Gian Piero Moscato, Giuseppe Pipitone e Costanza Matteuzzi con cui in questa prima ora e mezza parleremo di questi aspetti. Il secondo momento sarà con Alessandro Ruggeri e parleremo di fotogiornalismo e diritto di privacy. Partirei appunto subito sul tema al centro di questo primo incontro, durerà fino alle undici e mezza, faremo interventi da dieci minuti e un quarto d'ora l'uno per poi lasciare spazio a un po' di domande. Intanto una breve panoramica su cosa prevede questa riforma, poi ovviamente parleremo degli effetti concreti con i relatori e relatrici. Una riforma, quella cartabia, che tenta di regolare i rapporti tra organi di informazione e procure, come sappiamo, norme inserite in questa riforma per recepire una direttiva europea che vuole tutelare e rafforzare l'istituto della presunzione di innocenza degli indagati nei procedimenti penali, ma in che modo sono state inserite queste norme e a cosa portano? Innanzitutto al fatto che c'è un fortissimo potere discrezionale che viene dato alle procure che può avere effettivamente controindicazioni rispetto a quelli che sono i principi, cioè la domanda forse centrale che attraversa da questo incontro è chi decide cos'è l'interesse pubblico, chi decide cosa raccontare e cosa no. C'è un codice deontologico dei giornalisti che dà delle linee che dovrebbero andare, che vanno in questa direzione, poi appunto ci sono queste nuove norme che di fatto affidano ai capi delle procure la scelta, andando a dare le informazioni, almeno secondo quella che è la norma, poi cambia molto di procura in procura il comunicato, il comunicare quello che succede, quindi abbiamo questi comunicati stampa, a volte anche paradossali, ma ne parleremo, in cui vengono date informazioni o più che altro spesso non vengono date informazioni. Partirei con Silvestro Ramunno che è presidente dell'ordine dei giornalisti Emilia Romagna, chiederei innanzitutto che posizione ha preso l'ordine rispetto alla riforma Cartabia e se dal tuo punto di vista il diritto di cronaca, di informazione è effettivamente compromesso, cioè è davvero possibile che sia un procuratore a scegliere cos'è di interesse pubblico? Allora, parto anch'io con un ringraziamento, grazie agli organizzatori di Politicamente Scorretto per questa occasione, per voi e per i colleghi, che è sempre importante riflettere su temi rilevanti, ma anche per tutto il resto, perché Politicamente Scorretto è una rassegna ormai importante con tanto passato alle spalle un grande futuro dove si va a riflettere su temi di qualità della nostra democrazia. La riforma Cartabia, allora l'ordine dei giornalisti è stato molto critico da subito su questa vicenda, sostanzialmente per la domanda che tu ponevi, cioè chi decide cos'è di interesse pubblico. La riforma Cartabia è una riforma molto ampia che interviene su tanti aspetti del processo, l'obiettivo è quello di diminuire i tempi della durata dei processi, smaltire il grosso arretrato che c'era e se non ricordo male, anche perché non sono un grande esperto in questo tema, era una delle richieste collegate al PNRR, cioè per ottenere dei fondi l'Italia doveva velocizzare i tempi dei processi, quindi va inquadrata anche in questo contesto. All'interno della riforma Cartabia è stato inserito questo articolo che recepiva una direttiva europea del 2016, vi sono insegnato il numero se vi interessa, la 343 del 2016, anche questa è sulla presunzione d'innocenza, dove però me la sono vista, ci sono degli, si parla di stampa, si parla di media, però non c'è scritto quello che c'è scritto nella riforma Cartabia. Allora a me è sembrato questo, però proprio è una mia impressione che è stato inserito questo punto, forse non solo per silenziare la stampa, ma anche per una sorta di regolamento di conti tra gruppi politici. Negli anni passati c'è stata molta polemica tra i giustizialisti e i garantisti, detta così è un po' banale, però insomma sappiamo di cosa parliamo, quello è stato una sorta di regolamento di conti anche perché dice tante altre cose, come ad esempio il fatto di non dare titoli eclatanti alle inchieste che può essere anche giusto. La riforma Cartabia dice che, in rapporto con la stampa e non tutte le altre cose, dice che cosa è una notizia, lo decide il procuratore della Repubblica e solo lui può parlare, gli altri non possono parlare se non per delega del procuratore, producendo quei comunicati dove si dice è stato arrestato WW per qualcosa che non si capisce bene, quindi sono delle cose che richiedono tanto lavoro, da parte dei giornalisti mettono in difficoltà soprattutto le redazioni più piccole perché poi chi ha un po' di esperienza bene o male se la cava ha tante fonti, tanti contatti, però ecco è anche questo qua, è un altro piccolo ostacolo al diritto di cronaca e al diritto di cronaca io lo intendo come diritto dei cittadini di sapere le cose, non ci avevo pensato però me l'hanno fatto notare ieri il caso dei calciatori che fanno le scommesse, come l'abbiamo saputo noi in quel caso, di come ne siamo venuti a conoscenza, di una persona che non si sa come ha avuto le carte, le ha rese note anche in modalità abbastanza discutibili, ma è una democrazia può vivere in questo modo, ecco questo mi sono chiesto, perché se ci sono questioni di interesse pubblico non vengono comunicate, perché ovviamente mia posizione, ma credo abbastanza condivisa, è la stampa in una democrazia che fa da contropotere e decide che cos'è interesse pubblico, ho detto contropotere non a caso perché secondo me la stampa non dovrebbe essere controparte, ma dovrebbe essere proprio contropotere, ma questa è una discussione filosofica che magari potremmo approfondire, voglio anche un po' relativizzare la questione, come viene applicata la riforma cartabia è un disastro, non si sa, non c'è un criterio, ogni procura più o meno l'applica come crede, ma anche cambiando nel tempo, a volte più ristretto, a volte meno, dipende un po' dagli andamenti, solo una piccola relativa per dare un quadro più completo, per relativizzarla un po', perché ci tengo a questo, se noi guardiamo la cartina della libertà di stampa nel mondo, varia dal verde, situazioni ottimali, al rosso scuro, marrone, situazioni peggiori, l'Italia sta nel giallo. Ecco, con la riforma cartabia noi restiamo nel giallo, non è che diventiamo l'Iran o l'Eritrea o la Corea del Nord, non diventiamo però la Scandinavia, che magari potrebbe essere un nostro obiettivo. Ecco, anche se restiamo nella democrazia, restiamo persone informati, questa è una delle tante piccole cose, tanti piccoli ostacoli che vengono messi alla stampa. Questo è un pezzo, poi ce ne sono anche degli altri, magari dopo ne parleremo. Grazie Silvestro, passiamo a Giuseppe Pipitone, giornalista del Fatto Quotidiano. Silvestro Ramuno parlava appunto di ostacolo al diritto di cronaca, ma anche al diritto di sapere. Tu fin da subito hai scritto della riforma cartabia, hai parlato di buco nero informativo, di bavaia che distorce le normali dinamiche della cronaca nera giudiziaria. Ecco, qual è il tuo punto di vista sulla riforma, ma soprattutto che effetti hai visto in questi primi mesi nel tuo lavoro, quindi nel concreto, e cosa sta cambiando? È acceso? Posso dire una cosa prima? No, in realtà volevo dire solo che la riforma, chiamiamola bavaglio cartabia come vogliamo, non c'entra niente né col PNRR per cui è stata fatta la riforma cartabia, né con i tempi dei processi per cui sono state fatte tutte le riforme della giustizia del governo di Mario Draghi. Questa cosa scandalosa che noi chiamiamo direttiva della presunzione d'innocenza è passata in Parlamento mentre quasi nessuno se ne è accorto perché c'è un deputato di azione, si chiama Enrico Costa, che ha depositato un emendamento in commissione in cui diceva, caro governo c'è questa direttiva dell'Unione Europea sulla presunzione d'innocenza e tu non l'hai mai recepita. La devi recepire, probabilmente, anzi possibilmente la devi recepire in questo senso. Questo emendamento è passato perché c'era il governo Draghi che si reggeva essenzialmente su quasi tutte le forze parlamentari, è passato in commissione, è passato in Parlamento, le commissioni parlamentari hanno chiamato perché quando intervengono su questi temi devono fare le audizioni e sono obbligati, hanno chiamato in audizione l'ordine dei giornalisti, la federazione nazionale della stampa, cioè il nostro sindacato, entrambi gli enti, le sigle non si sono presentate, noi li abbiamo chiamati, ma perché non siete andati in audizione a dire che questa cosa è una vergogna, non c'entra niente né col PNRR né con tutti i processi da fare eccetera e ci hanno risposto, no ma noi dobbiamo studiare queste cose, non è che ci possiamo andare impreparati, se ne è parlato per sei mesi perché tra l'approvazione dell'amendamento costa e le audizioni e l'approvazione in commissione sono passati dei mesi e comunque noi, cioè noi, i nostri organi di categoria, l'ODG e la FNC, non ce ne siamo accorti, vero che non ce ne siamo accorti perché soltanto in pochi di quelli che seguono i lavori parlamentari giorno per giorno hanno capito che cosa c'era in ballo, anche al CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, perché il Consiglio Superiore della Magistratura? Perché dopo aver tentato per molti anni di mettere un bavaio alla stampa, questa legge, questa riforma non è un bavaio alla stampa, è un bavaio alle fonti della stampa, molto intelligente diciamo, che se mettevano, se tentavano di mettere un bavaio alla stampa ovviamente, oddio, non lo so se ovviamente, visto diciamo come sono comportati i nostri vertici, però comunque in passato noi abbiamo avuto i post-it gialli, la riforma bavaglio, i girotondi, insomma la stampa è un po' faticosa da sottomettere in maniera spudorata, quindi hanno fatto questo, ci hanno girato da dietro, hanno messo il bavaglio alle fonti e quindi era assolutamente un regolamento di conti, d'altra parte la persona che ho citato, c'è il deputato Lonevo Lecosta, è noto per le sue posizioni in tema di giustizia, persino al CSM che comunque ricorderete il periodo del governo Draghi era un momento di pace e amore, diciamo, di unità di intenti in tutto il paese, persino il CSM ha provato un parere positivo a questa riforma con solo alcuni voti contrari che erano sempre basti ancontrari, il voto contrario a questo lo diede per esempio il magistrato Antonino Di Matteo che all'epoca era consigliere del CSM, quindi solo per dire che questo con le cose che ci chiede l'Europa non c'entra niente, sono d'accordo, alcune inchieste vengono ribattezzate con appellativi, a me personalmente spesso fanno ridere, però vabbè, spesso diciamo sono fuori fuoco, non c'entra niente eccetera, ma la presunzione di innocenza con questa riforma non c'entra assolutamente nulla, questa riforma è un vero e proprio bavaglino, chiamiamolo come vogliamo, sono d'accordo con un'altra cosa, i più esperti, quelli che hanno più fonti, quelli che sanno muovere le notizie, ci sono, ci saranno sempre, se sai fare il suo mestiere diciamo ti è cambiato un poco ma non moltissimo, ma infatti questa riforma che cos'è? rubo un esempio di un collega, questa riforma è mettere la velocità a 30 all'ora in autostrada, nessuno andrà mai a 30 all'ora in autostrada, ma se vuoi a uno che va a 35 lo puoi bastonare, questa riforma serve essenzialmente a colpire chi voglio, mentre chi non voglio può continuare a fare conferenze stampa quando vuole, interviste eccetera, dipende chi sei, ci siamo, quindi che cosa è successo, vengo la tua domanda, che cosa è successo alla cronica giudiziaria? Tecnicamente non moltissimo, nel senso sono successe delle cose, alcune cose anche ridicole, a essere puniti diciamo sono soprattutto i cronisti locali, perché? Perché nelle piccole procure il potere è tutto in mano a un procuratore capo, a un comandante dei carabinieri e basta, ovviamente molte cose che prima erano ovvie e scontate sono un po' più complesse, perché? Perché la riforma che cosa prevede? Che il procuratore capo di solito fa un comunicato stampa per le operazioni, quando l'operazione è di particolare interesse pubblico fa la conferenza stampa, ora però il procuratore capo di qualsiasi procura non ha fatto la scuola di giornalismo, non ha lavorato nel giornale, quindi una cosa che per me è di interesse pubblico, per il procuratore capo no, non gliene frega niente, perché per me magari è di interesse pubblico un tizio arrestato per corruzione giudiziaria perché è l'avvocato di un noto politico, faccio un esempio, per il procuratore capo no, è uno dei tanti tizi, quindi non se ne sa niente, questa cosa è importante perché sentivo lo scontro giustizialisti garantisti, però andiamo oltre lo scontro giustizialisti garantisti, la giustizia, i procuratori PM devono essere controllati alla stampa, io non sono a favore del PM, io voglio sapere cosa fa un procuratore capo dove lavoro io, perché se non so che cosa fa, se non so che cosa ha in mano, questo procuratore capo può prendere il fascicolo sulle percosse che hanno probabilmente, anzi sicuramente, causato la morte del giovane Stefano Cucchi, scrivere che era un tossicodipendente che spacciava, farci un comunicato di un rigo senza nome e tu non ne sei niente per dieci anni e non ne sapevi niente, perché io devo sapere che cosa fanno, la magistratura è un potere e come potere deve essere sottomesso al controllo della stampa, la presunzione di innocenza è un diritto che è già garantito dalla nostra Costituzione, quindi l'ex, anche la dento, cioè voglio dire non mi sono, c'è sempre successo che se io do per colpevole uno innocente, poi bene che mi va l'ho rimborso con tanti quattrini, quindi per carità ben vengano molte cose, però alcune cose di questa riforma sono inutili e servono essenzialmente a creare casino, tant'è vero che vediamo che spesso ci sono dei procuratori di capi che siccome non l'hanno capita bene questa riforma e poi farò un esempio plastico, fanno essenzialmente un casino che la metà basta, quindi che cosa succede? Che spesso, siccome poi, non so se vi siete accorti che un tempo i blitz e gli arresti facevano sempre alle 6, 6 e mezza, 7 alle prime luci dell'alba, luogo comune giornalistico orrendo, ma no si diceva sempre alle prime luci, ora non ci sono più le prime luci dell'alba, prima, gli arresti li fanno sempre alle 6, ma i comunicati arrivano alle 9, 9 e mezza, perché? Perché li deve eleggere tutti questo poveretto di procuratore capo che, una procura grande, io vivo e lavoro a Milano, come Milano il povero Marcello Viola ci avrà una pila, si deve prendere un addetto stampa secondo me per brigarsi, siccome però i comunicati li scrivono spesso, carabinieri, finanzieri, poliziotti, che pure loro poverini vedono sta riforma che dicono, essenzialmente qual è la norma confusionaria? Non presentare mai un indagato come colpevole, che non vuol dire niente per gli investigatori che ti arrestano perché ti considerano colpevole, se no non ti arrestano, perché ti devo arrestare se ti considero innocente. Quindi ci sono questi comunicati stampa che sono straordinari, che sono essenzialmente 20 righe di nulla, vuoto, ci sono proprio il signor senza nome, di anni senza età, accusato forse quando capita bene c'è il reato e poi però ci sono 5 righe per dire ma ovviamente questo comunicato stampa e questa ordinanza emessa dal GIP non rappresenta una, non è colpevole ma è sicuramente innocente, insomma fanno ridere, lo sapete tutti. Ovviamente procura che vai, situazione che trovi, ci sono posti più piccoli dove arrestano per persone e non ti dicono chi sono gli arrestati, non ti danno le ordinanze, non girano le ordinanze di custodia cotelare, che la Cassazione ha detto chiaramente che devono essere pubbliche però con questa occasione diciamo mettono un po' una stretta totale. Ci sono anche situazioni curiose, abbiamo visto tipo di banali interventi dei NAS che chiudono il locale X perché ci sono i topi in cucina e fanno questi comunicati, i NAS chiudono 5 ristoranti, però siccome in teoria c'è sempre la presunzione di innocenza non ti dicono quali sono questi ristoranti chiusi per i topi in cucina con l'effetto che uno magari, questi poi riaprono, non ci vorrebbe andare ma non lo saprai mai. Quindi essenzialmente l'effetto è questo. Poi la cosa che dicevo prima, è un limite di velocità 30 all'ora che nessuno rispetterà però se non lo rispetta il nemico che fa 35 lo bastono. Quindi sono procuratori più piccoli in cui ci sono procuratori capi che interpretano questa direttiva in senso particolarmente stringente e bastono. Ci sono dei colleghi in varie parti d'Italia che sono finiti indagati per aver dato conto di risultati di autopsie, autopsie di persone finite in un lago che avevano acqua nei polmoni quindi essenzialmente era per escludere un omicidio ma un possibile suicidio e per questo motivo sono finiti sotto inchiesta che era chiaramente una ritorsione. Poi c'è un problema secondo me di informazioni pubbliche perché spesso a essere colpita da questo bavaglio, chiamiamolo come si chiama, sono le notizie proprio di cronaca che poi sono quelle che interessano maggiormente soprattutto nelle realtà più piccole di provincia. Ci sono omicidi di cui non vengono diffusi nomi dei morti appunto. Morti sul lavoro non si sa chi sono, non si sa perché o forse si sa perché se danno i nomi dei morti poi c'è il rischio qualcuno riesce a capire in che azienda lavoravano e quindi niente. Ci sono vari casi che ho messo in fila quando ci eravamo accorti di questa vergognosa riforma. Turisti israeliane ammazzate a Roma non se ne sapeva niente, si sapeva la notizia emergeva dai giornali israeliani, surreale. I morti sul lavoro appunto li ho citati ma ci sono anche altri casi, c'è ormai per esempio in quasi tutte le Procure d'Italia comunque quando fanno gli arresti spesso e volentieri diciamo te li dicono dopo 48 ore perché dopo 48 ore c'è il riesame è conferma l'arresto e siamo tutti belli più tranquilli. Credo che la qualità dell'informazione sia abbastanza scaduta, io spesso cioè quando vedo insomma nomi evitiamo di fare notizie monche. Arrestati, venti, presunti, mafiosi, chi? Perché vuol dire, cioè non vuol dire, preferisco non dare una notizia che darla monca, no? E così come me molti miei colleghi di altri giornali, di quotidiani grossi, Repubblica Corriere eccetera, no? Quindi vuol dire che la qualità dell'informazione piano piano comunque in un modo o nell'altro si abbassa, ripeto, le notizie continueranno ad uscire, le notizie grosse continueranno ad uscire eccetera eccetera, però voglio dire, penso al povero collega del giorno della provincia di Lecco che cadono gli aerei mentre stanno facendo esercitazioni militari e la gente vorrebbe sapere ma perché è caduto un aereo? Era un guasto? È pericoloso perché continuano a fare esercitazioni militari? E non lo sanno perché per me si rimane così. Non so se vogliamo parlare del, ne parliamo dopo del caso Bergamo? Va bene. Quindi sì, in definitiva è una vergogna, però siamo stati tutti molto stupidi a vari livelli con varie gradazioni di responsabilità e ora non so che cosa si può fare, so che ci sono dei ricorsi, c'è l'ipotesi di cercare di arrivare alla Corte Costituzionale ma magari ne parleremo dopo perché questa è tutta una questione di diritti, il diritto alla presunzione di innocenza non può mangiare tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti come il diritto all'informazione, il diritto a essere informatico. Grazie. Grazie Giuseppe. Appunto dicevi la cronaca locale ovviamente è quella più colpita. Si sente? Grazie a Pietro e Luca che sono in regia, mi sono scordata di ringraziarli prima. Gian Piero Moscato è stato per tanto tempo capo servizio della redazione di ANSA Bologna ed è interessante andare a vedere magari, fare un parallelismo, cos'era prima e cos'è adesso, quali sono gli effetti sul lavoro del giornalista locale e tu tra l'altro hai seguito tutto il caso della Uno Bianca, come sarebbe ad esempio raccontare quello adesso con queste norme? Allora io sono l'intruso perché il relatore doveva essere il caro amico, il collega Tommaso Romanin che adesso è il ministro giudiziario dell'Agenzia ANSA quindi vive questo problema dell'informa cartabile. In prima persona io sono la preistoria perché io sono stato il ministro giudiziario a partire dagli anni 70 fino al 2000. Ora ne sono uno studioso con Tommaso Romanin, abbiamo scritto un manuale di giornalismo e ci siamo occupati anche di queste cose. L'altra sera la cronaca giudiziaria è in pelle, Tommaso Romanin mi ha chiamato disperato dicendo devo andare a Reggio Emilia perché sto oggi, perché c'è in combi processo Samana, questa ragazza pakistana uccisa per ragioni che conoscete meglio di me. Mi sostituisci ho detto per me sostituire Romanin ovviamente è molto difficile perché è veramente un cronista formidabile e soprattutto perché lui è la modernità, io sono nato con il vecchio rito, il rito inquisitorio che aveva dei difetti perché si svolgeva nel segreto, però una volta che il segreto si interrompeva c'era la sentenza ordinanza di rivio giudizio che era la Bibbia, accusa, difesa e stampa erano in condizione di parità e c'erano delle carte su cui non si poteva discutere, quelle erano le carte. La verità putativa era certa. Il rito accusatorio introdotto con finalità di democrazia e di trasparenza negli anni 90 da cronista mi ha messo in difficoltà perché la formazione della prova avviene pubblicamente in tempi diversi e l'oralità sfugge alla Bibbia della parola scritta. Lo strapotere dell'accusa all'inizio è talmente forte che il potere di controllo della stampa è molto limitato. I capi d'accusa devono essere inizialmente spaventosamente alti perché non si può risalire una volta che il processo è cominciato ma bisogna scendere eventualmente per cui iniziano le inchieste arrestati eventi mafiosi alla fine del processo nessuno era mafioso ma noi li abbiamo mandati sul giornale una volta con nomi e cognomi da mafiosi. Abbiamo avuto discussioni molto accese con Marco Travaglio con cui abbiamo fatto diversi processi insieme sul fatto che il processo non deve servire a demolire le accusa dovrebbe servire a confermarle. Molto spesso accade il contrario. Io ho smesso di fare cronaca giudiziaria anche per questo perché alla fine delle accuse roboanti che partivano sui giornali che si concludevano con un vuoto normativo, non lo ha fatto un'archiviazione o una soluzione nel merito, alla fine l'accusa di, come si dice, di gogna mediatica ricadeva verso di noi non sul poliziotto che ha sbagliato, il magistrato che ha sbagliato. Quindi la riforma cartabia nelle intenzioni non non ha un difetto grosso, ha una intenzione che è nobile che è quella di impedire che un presunto innocente sia massacrato dalla stampa e lo dico essendo stato uno di quelli che molto spesso involontariamente ha massacrato. E come spesso accade le riforme come il dito accusatorio ha fatto fallire il processo e la giustizia italiana è precipitata nel ridicolo, anche questa riforma diventa inefficace. Poi dopo dirò di una discussione che ho avuto con Luca Soffri su questo punto. Comunque io sono la preistoria, sono nato col vecchio, Tommaso Romanino è una novità per cui ho letto il suo intervento, lui aveva preparato, qui lo leggerò, perdonate la lettura. Comunque lui è da Samanna, la 18enne uccise e seppellita novellare e di questo processo dice Tommaso Romanino che più che un caso di un processo mediatico parlerebbe di questo come per altri, di un processo dove i medi hanno avuto un ruolo importante, se non fondamentale per l'accertamento della verità. L'interesse con cui è stato seguito e i particolari emersi sulla stampa sono sicuramente tra i motivi che hanno portato il governo italiano a chiedere e per la prima volta nella storia ottenere dal Pakistan un'estradizione di un cittadino pakistano. Il padre di Saman che proprio oggi deve fare rifelazioni, speriamo che confessi, per poterlo processare qui per un delitto gravissimo con tutte le garanzie che la legge italiana prevede. Un discorso simile si può fare per gli altri processi che insieme a Romanino abbiamo seguito negli ultimi anni come Emilia dove Libera si è costituita parte civile, ci siamo confrontati anche su questo processo e che da queste parti è considerato un processo spartiacque nel contrasto all'Andrangheta al nord. L'indagine è nata anche non solo da alcune inchieste giornalistiche. E poi c'è anche il caso degli affidi nella valdenza reggiana in maniera forse un po' troppo semplicistica chiamata caso Bibiano perché il sindaco di quel paese, Bibiano, venne arrestato e perché a Bibiano c'erano i locali dove veniva fatta la psicoterapia. E si è scatenato questo caso Bibiano anche attraverso alcune strumentalizzazioni politiche e mediatiche, da una parte dall'altra, come una tempesta sulle elezioni regionali del 2020. Difficilmente abbiamo visto un caso dove diverse parti hanno tentato sempre di polarizzare l'analisi anche sui modi. Romani mi chiede di segnalare questi casi appunto perché hanno costretto a chi se ne occupava a riflettere continuamente sul proprio ruolo, su che notizie dare e non dare, Giuseppe l'ha detto molto bene, ma soprattutto su come darle, trovare un non semplice bilanciamento tra l'interesse pubblico ce l'abbiamo. Io voglio sapere che un omicidio c'è stato, ma voglio sapere un anno e mezzo dopo. Ma soprattutto trovare appunto un bilanciamento con leggi come la privacy dei minori, perché è una legge dello Stato, pensare al fratello di Samano un testimone che va protetto, e delle famiglie con bambini coinvolte nel caso degli affidi, con indagini in corso come nel caso di Emilia, piuttosto che il diritto di persone che avevano avuto misure restrittive a vedersi diabilitate nel momento in cui queste misure sono decadute. Oppure quando, dopo un certo tempo, sono stati assolti e l'accusa nei confronti di persone in un primo momento finita sui giornali e sul web come possibile affigliati alla Cosca sono cadute. Non è successo in tanti casi perché Emilia ha avuto un certo esito giudiziario, ma è successo per alcune figure importanti. Lo stesso tema si pone più in piccolo su in tanti casi più ordinarie e quotidiani di cronaca che trattiamo, dove ogni giorno scegliamo che notizie dare e non dare e come darle. Sono garanzie da tutelare? Presunti innocenti, vittime da proteggere? I giornalisti infatti non scrivono tutto quello che sanno. Alcune cose che io so oggi le potrò scrivere tra qualche settimana o qualche mese, magari mai. Altre magari penso di saperle, ma quando le verifico scopro che non sono così o non sono esattamente così. Questo perché i giornalisti, almeno quello che provano a farlo seguendo la deontologia, la propria coscienza e la propria esperienza, fanno continua selezione e filtro. Le notizie vanno date tutte, la regola dovrebbe essere questa, ma quasi quotidianamente capita, per esempio, che di un fatto si ha solo una versione e per motivi di varia gene non si riesce ad avere una visione completa e quindi si può scegliere di attendere di pubblicare. Non sempre la scelta che si fa si rivelerà corretta e possibile di mantenere. Ci sono altri fattori in gioco, la fretta, un'incomprensione, un errore di una fonte, una diversa valutazione di un collega che costringe a rincorrere un cambiamento delle carte in tavola. Un'altra notizia che arriva è che porta nell'attualità a quella vicenda che si era valutato di aspettare a scrivere. Ma c'è da credere che il filtro e la mediazione siano delle poche cose che ancora ci distinguono e ci salvano dai sociali. Io ribadisco. Sevo con Giuseppe, il giornale Cartaceo muore, ma il giornale Cartaceo è ancora l'ultima speranza per la democrazia. Chi legge un giornale Cartaceo ha tutto il quadro dell'informazione. Il peggior giornale Cartaceo è la migliore garanzia contro lo strapotere dei social e la disinformazione dei social. Il peggior giornale ti dice tutto, poi ti può piacere un po' piacere. Sarà pieno di errori, perché ci sono gli errori purtroppo, però sono errori che il giorno dopo magari si rimedi, si possono vedere rimediati. I social non filtrono, i giornalisti dovrebbero farlo, anzi forse è il loro ruolo primario. Gli strumenti per il filtro sono la coscienza, l'esperienza, a volte il confronto e il lavoro collettivo di una redazione quando è possibile e soprattutto le norme deontologiche, la tutela della professione. Quali sono le conseguenze del decreto Cartabia? Romainini ne ha elencate molte, ma penso che possiamo affidare ad altri più esperti di noi il compito, anche perché poi comunque i temi sono venuti fuori. Quello principale è che il filtro di cui si parlava prima viene affidato ai procuratori, che ne hanno il monopolo. Ci sono per fortuna zone grigie, casi diversi, dopo due anni alcune plassi stanno mutando, ma se si applica la lettera alla norma sono i soli titolati a decidere cosa è notizia e cosa no di quello che accade nell'universo giudiziario, cosa l'informazione pubblica ha diritto di sapere, cosa no, ma anche e soprattutto quanto ha diritto di sapere, quando ha diritto di sapere. Se si applica la norma alla lettera e alcune procure lo fanno non c'è informazione che rischia dagli uffici che non venga selezionata, approvata, autorizzata dal procuratore. Questo ha problemi anche tecnico-logistici, se si può comprendere almeno in parte per alcune grandi indagini, non è concretamente applicabile su tutte le vicende di interesse giornalistico e pubblico. Un procuratore di una città media non può avere un controllo capillare di tutto quello che succede nel suo ufficio, per quanto riguarda il cosa, o per quanto riguarda il quando, lo stesso magistrato può essere impegnato in alto, può essere in ferie, altrove. L'informazione è sempre più rapida e spesso è necessario invaglio in poche ore. La possibilità di avere un confronto con qualcuno che chiarisca o meno i temi di notizia. Poi c'è il tema della sensibilità. Non sempre, anzi, quello che un magistrato valuta come importante, l'ho detto Giuseppe Petitone, lo è per la stampa e viceversa. Dieci arresti per droga che casomai hanno portato un grande sforzo di indagine potrebbero non essere una notizia di rilievo o potrebbero non esserlo se quel giorno si discute di tutt'altro. Di violenza sulle donne, di immigrazione, eccetera. Paradossalmente una norma che forse nasce anche per impedire un rapporto troppo stretto tra le procure e gli organi di informazione sposta sulle procure, su di loro, tutto il potere e la responsabilità della comunicazione. La seconda conseguenza più pratica è che non è previsto uno spazio per fare domande. Sta scomparendo la possibilità di fare domande in questo Paese. Se le notizie vengono diffuse solo con comunicati stampa autorizzati e solo in casi particolari con conferenze stampa, non c'è un'interlocuzione. Quello che succede è che la forza di polizia che diffonde il comunicato autorizzato alla richiesta di chiarimenti può rispondere. L'unica cosa che possiamo dire è nel comunicato autorizzato. A volte mancano elementi omessi volutamente per motivi di indagine, altre volte mancano dettagli innocui ma cruciali per costruire notizie dei servizi e non si può pensare che i giornalisti debbano contattare i procuratori per farsi specificare un orario, metà, un luogo. Sono elementi fondamentali della cronica. Bisogna poi estremi. Nella nostra regione si va da situazioni dove non vengono diffuse informazioni neppure sugli incidenti stradali o sul lavoro e altre dove invece per tutto quello che succede in strada le forze di polizia hanno maggiore autonomia, meno per quello che riguarda un'attività di indagine. Non prevedere la possibilità di far domande significa poi non poter chiedere conto di quell'informazione che la procura ha deciso di non comunicare o su cui magari non si è posta neppure il problema di valutare ma se il giornalista apprende che ha il dovere di verificare. È importante sottolineare questo aspetto della possibilità di fare domande dice Romanini perché è un'epoca questa in cui la comunicazione non solo quella giudiziaria si fa molto attraverso le note scritte. Per quanto questa volta aiuti effettivamente i giornalisti che sono i primi a chiederle altre volte perché anche un ruolo pubblico diventa un modo per soffrarsi al confronto. Ci sono sempre più politici che incalzati di persone non rispondono per poi mandare una nota via chat o via social. Ci sono conferenze stampa di soggetti istituzionali dove viene detto si possono fare solo una o due domande per il resto affidatevi al comunicare. Questo è senz'altro comodo per chi come la maggioranza dei giornalisti a tempi di lavoro stretti ma accettare meccanismo come sistematico può portare rischio. Che sia un effetto del decreto no comunque è un esempio quello di cui stiamo parlando e riguarda Bologna. È il caso di cui si è discusso nei discorsi mesi con l'intervento dei colleghi anche nell'ordine. Io credo di essere stato io sullevare il caso sul cantiere Bologna e poi con la risposta del procuratore del medico Giampaolo Amato accusato non condannato sia chiaro dell'omicidio della moglie e poi anche della suocera. Di questo arresto si è venuto a sapere alcuni giorni dopo l'esecuzione del provvedimento ma soprattutto un anno e dopo mezzo la morte. Per un anno e mezzo c'era un omicidio, anzi un uxoricidio, un femminicidio di cui non abbiamo saputo noi. Per di più una persona libera, per di più con una comunicazione dove non veniva diffuso il nome della persona restata in un fatto pubblico che riguardava un personaggio se non pubblico quantomeno molto conosciuto. Dare la notizia con il nome non risponde solo ad un interesse collettivo ma anche individuale perché per esempio quella persona può essere oggetto in stato di un errore giudiziario perché noi dobbiamo controllare anche quello. Amato può essere una vittima della giustizia. In ogni caso la domanda è chi deve decidere se un'indagine per un omicidio è una notizia? Nel rispetto delle norme di legge ideologiche forse anche un confronto devono essere i giornalisti e non altri successi soggetti su questo. Non ci sono storie. C'è stato un dibattito a scienze politiche, è venuto Luca Soffi, il titolo del Post, e lui alla domanda sulla riforma cartabia ha detto ma di che cosa ci scandalizziamo? L'Inghilterra, la culla della democrazia, è il giudice che decide che cosa si può scrivere e cosa non si può scrivere. E quindi vogliamo dire che in Inghilterra c'è un bavaglio? Allora io ho risposto e ho detto ma innanzitutto il giudice lo fa con un provvedimento motivato, cioè c'è la motivazione della sentenza e si dice questa parte non può essere data, ma lo motiva mettendosi anche al controllo di suoi colleghi di rango supportore. Soprattutto mette noi in condizione di capire dove è sbagliato e quindi rifargli il giudice. Ma soprattutto non è rimesso al potere discrezionale di un provvedimento che se ne ha voglia da notizia, se non ne ha voglia non la dà e non lo motiva. E io ho fatto il caso di suo padre, Diano Soffi. Diano Soffi è stato annato, una quale mandante dell'omicidio calabrese. Lui si è sempre dichiarato colpevole politicamente del processo per creare il clima di odio verso il commissario, ma si è dichiarato innocente sul fatto, cioè io non ho ordinato il pentito marino che si è autoaccusato di essere uno degli esecutori materiali, accusando Soffi di essere il mandante, fu tenuto dai carabinieri in una caserna per 17 giorni senza avvocato di persona. E alla fine divenne la testimonianza chiave nel processo che ha condannato, quello che si dice innocente, si è assunto la responsabilità. Io a Soffi gli ho fatto il presente. Se ci fosse stata la riforma cartaglia, avremmo mai saputo di questo termo di 17 giorni contro ogni regola di un imputato testimone di reato connesso? Lo avremmo saputo. Soffi ha detto che ragione non ci dobbiamo riuscire. Grazie. Tra l'altro prima parlavi di gogna mediatica e rispetto anche al caso Calabresi mi viene in mente anche tutto il lavoro che ha fatto Camilla Cederna, che anche lei è stata accusata proprio di aver creato un clima d'odio per aver raccontato tutto quello che era successo dopo che Pinelli era caduto dalla finestra, diciamo così. Poi facciamo il passaggio successivo, però è interessante vedere i diversi livelli, come si parli di gogna mediatica, quante responsabilità ci siano, a che punto si possa arrivare nel racconto e quanto sia un tema fondamentale di democrazia. Facciamo l'ultimo passaggio con Costanza Matteuzzi che è avvocata, esperta tra l'altro di criminalità informatica ma anche di tutela della protezione dei dati, per cui abbiamo pensato di chiedere un parere anche più tecnico e da un altro punto di vista, però è interessante perché prima quando parlavamo dicevi spesso io mi trovo a difendere persone dall'altra parte, quelle che magari il diritto all'oblio lo vogliono richiedere e invece ora la situazione con la riforma è cambiata in parte forse. Qual è il tuo punto di vista sulla riforma? Quali sono i rischi? C'è davvero questo bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di cronaca come dovrebbe essere? Ovviamente poi una risposta ce la siamo già data, però è interessante e importante anche sentire un punto di vista diverso. Grazie, grazie a tutti dell'invito. Dunque diciamo che è una domanda un po' difficile da dare questa. Allora diciamo che come giustamente hanno detto tutti gli ottimi relatori prima di me, il problema c'è assolutamente rispetto alla riforma che è stata fatta. Tra l'altro spezzo solo una lancia a favore della Cartabia perché effettivamente questa volta non c'entra la Cartabia nel senso che purtroppo questa direttiva era effettivamente da adottare. Nel 2018 lo Stato italiano aveva detto che era già in regola rispetto all'adozione di questa direttiva quindi non c'era da fare fondamentalmente niente. Poi qualcuno dall'alto dell'Unione Europea gli ha detto no guarda Stato italiano a testere rischio sanzione quindi datti una mossa e attivati. E quindi purtroppo noi abbiamo questa tendenza a volte a fare un bel copia in colla delle direttive e quindi poi di fatto come dire ci sono tutta una serie di problemi perché come diciamo come tutti noi operatori pratici abbiamo riscontrato un problema applicativo fondamentalmente perché ci sono tutta una serie di domande e di dubbi che di fatto non possono essere assolutamente evasi da questa norma. E quindi diciamo che certamente ci sono dei paletti importanti che sono messi all'attività di cronaca e d'altra parte appunto sicuramente la razza o la ragione di questa riforma era effettivamente la tutela del soggetto sottoposto a indagine e poi a processo quindi sulla non colpevolezza del soggetto. D'altronde è vero anche che effettivamente soprattutto appunto quelle procure scusatemi quelle zone che hanno delle procure più piccoline che sono tendenzialmente sotto organico e abbastanza oberate di lavoro categoricamente annaspano se effettivamente ci si mette anche questo carico importante. Devo dire che la procura di Bologna ho trovato quello che dice appunto il sostituto procuratore e a mio avviso era un passaggio importante quello che ha reso il sostituto procuratore di Bologna e anche devo dire la procura di Modena che mi sembrano effettivamente abbastanza come dire aperte, illuminate da questo punto di vista perché effettivamente all'interno di queste linee guida c'è un importante passaggio proprio a favore del giornalismo che mi sono permessa ecco di stampare e di portarvelo e semplicemente perché ci dice chiaramente che per quanto riguarda ovviamente le informazioni quindi dove si mira a tutelare la presunzione di innocenza di una persona indagata ritengo autorizzabile in via generale salve specifiche esigenze di riservo investigativo il rilascio da parte delle forze di polizia delle informazioni di cronaca tra virgolette rispetto ai fatti di rilievo penale verificatesi nel territorio. Quindi questo per capire che diversamente opinando senza che ci siano ragioni di tutela del principio di presunzione di innocenza si finirebbe con il mortificare il diritto di cronaca e di informazione. Quindi questo vuol dire che il problema è sentito probabilmente anche dalle procure perché se no non sarebbe scritto in questo modo e non solo anche Modana e anche la procura di Perugia hanno adottato delle linee guida che effettivamente cercano un po' di trovare un bilanciamento in corso d'opera. D'altra parte mi rendo conto che il fatto che sia appunto del 2021 come legge però d'altra parte i tempi della giustizia sono effettivamente un pochino dilatati nel tempo e quindi piano piano in corso d'opera ci si sta cercando di rimettere un po' in linea. Però c'è un altro problema secondo me che è da sottolineare e questo è un po' più recente perché è del 2023 e della riforma del codice di procedura penale con l'introduzione del 164 TER che è il nuovo diritto all'oblio rispetto a quella che è il diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte a indagini. Guardate che secondo me questa norma non vi lascia, vi mette veramente secondo me una tagliola ecco importante per come è scritta perché ci sono ecco qui ci sono tanti problemi secondo me proprio per come è formulata soprattutto perché il vostro lavoro rischia di essere un po' mortificato perché come sicuramente avete già letto se un soggetto c'è un provvedimento di archiviazione, un provvedimento di assoluzione o un luogo a procedere appunto c'è un problema per cui se quel soggetto decide di esercitare il diritto alla deindicizzazione dei contenuti allora a quel punto il vostro lavoro viene vanificato. Voi avete scritto magari articoli importanti, avete fatto un'attività di indagine importante, avete scritto articoli, avete approfondito e poi bisognerà capire con che limiti si esercita questo diritto alla deindicizzazione, cosa si può chiedere di rimuovere, cosa no e capire bene anche le tempistiche e le modalità applicative perché questo la legge non ce lo dice, o almeno io non l'ho trovata da nessuna parte. La deindicizzazione, su questo posso rispondere, la può chiedere il soggetto e la norma è abbastanza, ecco su questo c'è un minimo di precisione in più perché ci dice chiaramente che colui che è destinatario di una sentenza o di un decreto o di un'ordinanza, ok? Di un luogo a procedere, una sentenza di proscioglimento o di archiviazione, sono tre cose un po' diverse ma diciamo ora al di là dei tecnicismi ci interessa semplicemente sapere che questo soggetto praticamente è non colpevole, nell'archiviazione addirittura manco parte il processo, nella sentenza d'assoluzione ovviamente sì, in quella di un luogo a procedere, semplicemente c'è l'udienza filtro e si dice no, il giudice dice non procediamo, d'accordo? Semplicemente questo. Però questo soggetto può appunto chiedere, il soggetto destinatario di questo provvedimento può chiedere effettivamente la deindicizzazione che non è proprio cancellazione, è un'altra cosa, non è proprio l'oblio stretto, è deindicizzazione. Cioè io da quel motore di ricerca e quindi anche dal sito internet dell'archivio digitale magari dell'editore, del giornale, può chiedere la rimozione appunto di quel contenuto. Oppure se appunto l'editore non è attivo può direttamente farlo da Google, però sappiamo anche che non c'è solo l'unico motore di ricerca al mondo, no? Quindi c'è anche questo piccolo problemino. Ma il problema più grosso secondo me lì ce l'avete davvero voi, perché il problema del contenuto di quello che io vado a togliere se questo soggetto è stato assolto, archiviato, non luogo a procedere e quant'altro, è questo c'è e la norma non ce lo dice. Poi c'è anche un altro problema, ma se io vengo assolto per un capo di imputazione e non per gli altri, allora il fatto che non c'è l'avello, si toglie, cioè nel senso sono problemi onestamente applicativi, però sono problemi che voi avete e onestamente ce li ho pure io se devo fare una richiesta. Quindi diciamo che ecco, a mio avviso qui il problema che c'è è rispetto proprio alla tastatività e al profilo proprio applicativo, pratico della norma. Questo senz'altro. Fermo restando che anche in questo caso sicuramente la razza che c'è alla base è quella comunque di evitare appunto la famosa e tristemente nota, gogna mediatica. Faccio solo una cosa e poi passo la op e poi chiudo. L'oblio non è cosa nuova per il nostro ordinamento, ok? No, perché poi a volte se ne parla tanto, no? Ma l'oblio non è una cosa nuova e soprattutto è importante fare una distinzione fra quello che è deindicizzazione e oblio, perché sono due cose diverse. Perché io se chiedo una rimozione di un contenuto, quello è proprio il vero oblio, è right to be a ruser. Il fatto della deindicizzazione è appunto deindicizzazione vera e propria dai motori di ricerca, ma sono due cose molto diverse. Purtroppo in Italia c'è stato un caso tristemente noto, visto che la famiglia ha esercitato giustamente il pieno diritto all'oblio, eviterò di fare il nome, che appunto come sapete si tolce la vita dopo che erano state pubblicate in maniera veramente massiva dei video che la riprendevano in momenti di intimità. E quindi ecco, quello è il vero diritto all'oblio, cioè la rimozione totale, non solo la deindicizzazione dai motori di ricerca. Questa è una differenza importante, perché poi di solito non se ne parla mai e si tende a usarli come sinonimi. Invece no, sono due cose diverse. Questo, non aggiungo altro, grazie. Abbiamo un giro di due minuti a testa al volo, perché poi... Sul diritto all'oblio, nel 2018 sono stato in pensione, ma già mi era stato chiesto di indicizzare o di cancellare sul sito, sull'Ansa, notizie di chi magari vent'anni prima era stato condannato per rapina, poi o aveva spiato del tutto la pena che si era reintrodotta nella società, oppure era stato giudicato innocente tempo dopo e noi l'abbiamo fatto con piacere, anche perché crediamo che ci sia un diritto alla restituzione del proprio onore. Il problema è questo, l'Ansa forniva servizi anche ad altri siti, all'Italia, la Fiat, eccetera, eccetera, e noi non abbiamo potere di rimozione su... prego. Grazie. In effetti il problema che io avevo era appunto il fare la caccia agli url online, però adesso Google effettivamente ha messo in moto proprio dei form abbastanza efficaci, anche molto semplici da usare, devo dire, e effettivamente si possono fare delle richieste per cui effettivamente devo fare una ricerca continua, però si riesce a toglierli in maniera un pochino più rapida anche. Devo dire che fino alla pandemia, insomma, tutto sommato si procedeva abbastanza, insomma, in questione di qualche mese. I tempi sono più o meno questi, se appunto, e comunque è tutto sommato un interlocutore abbastanza rapido, ecco, con un po' di virgolette, ma abbastanza rapido, devo dire. E questo, grazie. Grazie mille. Facciamo un secondo giro velocissimo, così forse rimane spazio a qualche domanda. Vi chiedo di stare proprio in due minuti. Prima Costanza Matteuzzi diceva che la Procura di Bologna ha dato delle linee guida illuminate, però poi ci sono dei casi concreti che andiamo a vedere come giornalisti e giornalisti, immagino anche come ordine. Io faccio un esempio velocissimo perché penso che possa essere utile per capire quali sono i propri aspetti anche e qual è forse la confusione che c'è. Stiamo facendo un'inchiesta sul tema mafia e ristorazione, facciamo la visura su questo soggetto, vediamo che aveva un locale che è stato sequestrato e poi dissequestrato, chiediamo alla finanza che aveva condotto le indagini di sapere perché fosse stato dissequestrato e loro ci dicono non possiamo dirlo, non abbiamo dato notizie, la Procura non ha dato l'ok perché questo soggetto ha rischio esaurimento o impatto. Vai a dire ok, però se è stato dissequestrato ci sarà un motivo, forse anche a suo favore, sapere perché è stato dissequestrato e cos'è successo. Magari c'è stato un errore prima, c'è stato un errore dopo, cos'è successo? Qual è il limite anche nel capire come va a impattare? Però niente, la Procura non ha dato l'ok per cui non si può sapere se non che è stato sequestrato e poi dissequestrato. Per cui mancano proprio delle informazioni, questo è un caso molto piccolo però ci racconta che a volte forse può essere un danno alla stessa persona dall'altra parte. Nel caso dell'ordine Silvestro vi è capitato già di dover affrontare qualche caso specifico? Allora, sì, però voglio essere proprio onesto, io non so come viene applicata la riforma in Cartabia. Facciamo l'esempio dell'Emilia Romagna. Noi avevamo all'inizio un problema con Modena, adesso Modena sembra diventato un modello. C'è stato qualche problema in Romagna, Rimini, Ravenna, poi finito. Una volta a Parma, ma a Bologna col caso che citava prima Moscato c'è stato anche un dibattito pubblico che dovrebbe anche avere un seguito, speriamo. Ecco, non c'è un criterio, va a momenti e va soprattutto su alcune questioni che riguardano una forte attenzione della stampa. Ad esempio qualche mese fa a Sassuolo c'è stato un caso di una famiglia sterminata, nel senso che il papà, se non ricordo male, aveva ammazzato la moglie e la figlia, poi si è ammazzato anche lui. Ecco, in quel caso è ripartito tutta la vicenda, tutta l'applicazione della rigidità della Cartabia. Dopo una settimana è tornato tutto normale, quindi io non vi saprei dire qual è il criterio. Non c'è un criterio unificante, dipende dalle procure e questa cosa può far gioco ai giornalisti, ma non è proprio bellissima. All'interno di una democrazia resta il fatto che questa cosa è limitante. è limitante perché non va bene, a volte sì, a volte no, dipende dalle giornate. In un caso di una procura che non la voglio citare era il procuratore che aveva deciso che lui aveva tempo il mercoledì e il sabato. Quindi se una cosa succedeva il mercoledì alle 13 la sapevi il sabato, forse. Dico solo due cose velocemente. La prima, è vero che gli organi di categoria hanno sottovalutato questa vicenda qua, è verissimo, hai pienamente ragione. Non saprei dirti la ragione per quale motivo è successa. Probabilmente l'hanno sottovalutata proprio senza dargli l'importanza che poteva meritare, al netto di quello che poi si poteva fare perché c'era una grossa intesa su questo. I temi che tratta la cartabia sono già nella nostra deontologia. Se avete modo, se rileggete l'articolo 3 e 8 del testo unico più o meno dicono queste cose qua. La deontologia è una nostra responsabilità, non è solo una tutela, è anche responsabilità di quello che scriviamo, lo dobbiamo sentir sempre. E poi l'ultima cosa sui temi della deindicizzazione. I motori di ricerca è facile, ma gli archivi cartacei. Ecco, che si va? Si va a ritagliare in tutti gli archivi, in tutti gli archivi, l'articolo. Ecco, al netto del fatto che alcune questioni possono essere di interesse pubblico anche se c'è stata una soluzione. Adesso uno dei processi con i nomi fantasiosi era Tempa Rossa o Mafia Capitale che poi non è mafia. Ecco, ci sono state delle soluzioni, però sono fenomeni che interessano sapere, quantomeno capire che in un certo momento la capitale d'Italia o una zona della Basilicata era interessata da fenomeni di interesse pubblico. Ecco, questo è il tema per quanto riguarda il diritto all'oblio, poi ci sarebbe anche il tema del decreto penale, però forse andiamo un po' troppo dentro. Mi fermo qua. Grazie, sì. Sono fatti l'interesse pubblico anche perché spesso, anche se non viene riconosciuto il reato, le intercettazioni o, vabbè, insomma, intercettazioni è altro tema fragile, però raccontano qualcosa che effettivamente è successo. Raccontano un po' della storia, no? Sì, sì, sì. Su questo, Giuseppe, un breve commento su questo aspetto, ma soprattutto ti chiederei, c'è un caso che riguarda la riforma Cartabia che è forse tra i più significativi come è andata con l'inchiesta sulla gestione della pandemia. Cosa è successo in quel caso? Vuoi che rispondo prima sull'oblio o sul Covid? No, io condivido assolutamente il diritto a riacquistare il proprio nome. Da noi, prima di quest'ultima legge, arrivavano in redazioni milioni, centinaia di richieste, perché erano persone assolte dieci anni firì, ma tutto giusto. La nuova norma è un pochettino diversa e io voglio sottolineare che alcuni casi, diciamo, Giuseppe Valerio Fioravanti potrebbe scriverci e dire non vi permettete più ad associare il mio nome all'omicidio di Persanti Mattarella perché io sono stato assolto. E lì che cosa succede? Dovrei... è stato assolto poi ognuno ha le opinioni che ha su quel caso, su quel caso ognuno ha le sue opinioni, è stato assolto per carità. Però un altro esempio di un processo contestatissimo che ha creato veleni e polemiche che è il processo sulla cosiddetta trattativa statomafia, no? Soluzioni con più ampia formula possibile. Ora non apriremo il discorso sulla trattativa perché possiamo parlare fino a dopodomani, se no. Però oggettivamente, ora io tremo all'idea di dodici, dieci richieste di indicazione degli imputati dalla trattativa statomafia, tutti assolti, perfetto, complimenti, eccetera. Però io penso che le cose emerse in quel procedimento, reato o non reato, colpevoli, innocenti, sono pezzi di storia di questo paese. Però potrebbe capitare che un domani tutto l'archivio, tra l'altro nostro e il fatto quotidiano credo siano migliaia veramente di articoli, dovrebbe via con un colpo di spugna. Io penso a questo punto, diciamo, stiamo cancellando la storia del paese perché metti anche tangentopoli. Ma mi fermo qui, diciamo. Su la gestione dell'inchiesta Covid, se a me domani mi chiamano e mi dicono vieni a fare il giudice civile, io gli dico no perché c'è il rischio che faccia un casino clamoroso, non ne so niente. Quindi il povero procuratore di Bergamo, poverino, gli hanno detto a un certo punto che doveva gestire l'informazione su una cosa comunque delicata perché il Covid e la pandemia è un momento peggiore degli ultimi 50 anni di questo paese del mondo. E quindi questa indagine di cui si chiacchierava, si parlava alla procura di Bergamo sulle zone rosse, insomma lo sapete. A un certo punto il povero procuratore di Bergamo, che ha questa riforma cartabia in mano, che essenzialmente gli dice non ti permettere a fare capire, fa un comunicato stampa di 21 righe. In queste 21 righe essenzialmente dice che ha chiuso le indagini sulla gestione della pandemia, l'avviso di conclusione e indagini non è certamente un'accusa, sono tutti innocenti fino al proprio contrario, ma non ci dice chi sono gli indagati, qual è il reato contestato che è fondamentale perché poi nella gestione della pandemia qual è il reato contestato se ci sono o no errori, boh, non si sa. Soprattutto non ci dice che indagati, diamine, c'è un ex presidente del consiglio, un ex ministro della salute e un governatore, tra l'altro si votava in Lombardia, un governatore in carica a ricandidato. Vorrai dirlo, però poverino lui non lo sa come funziona quella riforma cartabia, gli dice non ti permettere perché sennò ti leviamo due mesi di pensione, la censura al CSM, quindi poverino ha fatto 21 righe di comunicato in cui non c'è scritto assolutamente niente. Giustamente facciamo i giornalisti, capirete che se c'è l'inchiesta sulla gestione della pandemia Covid è tra l'altro una questione che spacca a livello politico questo paese, di riffo di raffa i nomi di Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Tito Fontana e tutti quegli altri escono subito o quasi subito. Il povero procuratore rinfrancato dal fatto che tutti i giornali d'Italia avevano scritto tutti gli indagati, poverino sbracca tra virgolette, rilascia una serie di interviste, leggo dei passaggi perché sono surreali, in cui invece di, intanto secondo me, io sono assolutamente, come avete capito, completamente critico su questa riforma, ma sono anche convinto che i magistrati si devono fare i magistrati, mi devono spiegare quale sono ipotesi d'accusa o perché hanno assolto un tipo piuttosto che condannarlo, ok? Non mi devono dire opinioni in libertà nella fase, nelle indagini in corso, anche se era chiusa da poco l'indagine, non si devono azzardare. Invece lui, forse appunto rinfrancato dal fatto che tutti i giornali titolavano, inizia a dichiarare cose tipo il nostro obiettivo era fare sapere alla gente quello che è successo, in particolare ai familiari delle migliaia di vittime di Covid. Abbiamo illuminato un periodo oscuro, quello dei primi mesi di gestione della pandemia, quando le vite qui nella Bergamasca cadevano come i birilli, poi lasciamo stare la scelta di queste metafore, ma vabbè. Senza quegli errori, dice lui, dice lui in un'intervista, avviso di conclusione indagini, senza quegli errori, quindi è sicuro che ci sono stati errori, non avremmo avuto tutti questi morti, quindi in esso causale, se non facevo le zone rosse l'8 marzo, c'erano meno morti, io non so come fa a saperlo lui, tant'è vero che come sapete è stato tutto poi archiviato, però è molto grave che un procuratore capo dica questo, io mi incazzo, cioè se sono indagato io mi incazzo moltissimo. E continuo a fare queste cose qui perché poi, giustamente i colleghi gli fanno notare, ma in realtà il reato è epidemia colposa, che è un reato difficile, diciamo, da portare. E lui lì inizia a dire eh sì, è un reato a condotta vincolata, stando alla Cassazione c'è un problema di configurabilità, anche per questo vedremo, cioè dopo aver detto che ci sono stati errori che hanno causato morti per il covid, quindi situazioni drammatiche, anche per questo vedremo se e a cosa porterà quest'indagine. E il giornalista gli chiede, procuratore ma lei ci sta dicendo che finirà tutto a tarallucci e vino dopo tutto questo casino? No, non dico questo, ma magari qualcuno sarà prosciolto, qualche posizione sarà archiviata e magari i giudici riterranno che appunto sull'epidemia colposa non si debba procedere, questo dopo aver detto che ci sono stati errori, c'è colpa, c'è gente che ha fatto morire volontariamente alle persone di covid. Però noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. Quale? Domanda. Soddisfare la sete di verità della popolazione? Noi non accusiamo nessuno, dopo tutto questo, noi non accusiamo nessuno, ma avere dimostrato perché secondo noi c'è stata una sottovalutazione del rischio dal punto di vista della gestione sanitaria è dal mio punto di vista un grande spunto di riflessione. Ora, io non penso che le procure ci debbano dare spunti di riflessione, per quella cosa ci sono i giornali appunto. Mi dispiace perché? Perché io capisco che lui prima ha fatto un comunicato che non sapeva cosa metterci e non ci ha messo niente, poi ha visto che tutti sapevano tutto e allora ha sbracato perché giustamente immagino che uno che indaga per due anni su una cosa così delicata si vuole intestare dei meriti, no? Con tutte queste opinioni che è normale che uno che deve fare la pubblica accusa ha delle opinioni colpevoliste, che il procuratore capo sia giustizialista, voglio dire, è quasi normale, anche se non dovrebbe essere così, lo sappiamo, ok? Che faccia queste interviste? No, e io sono, non dico sicuro, ma abbastanza certo che prima la riforma Cartabia, questo qui si faceva una bellissima conferenza stampa, faceva una bellissima viso di conclusione e indagini che girava a tutti, tutti sapevamo quali erano le accuse e quali erano poi gli avvocati quali erano le difese, lui non diceva queste cose qui, soprattutto perché il poveretto è finito sotto inchiesta dal Ministero della Giustizia, giustamente, perché ha fatto un comunicato che rispondeva fin troppo alla riforma Cartabia, ha fatto un'intervista, più di una, abbastanza libera, come avete visto, il nostro amico di cui sopra Enrico Costa, l'inventore di questo bavaio, ovviamente appena ha visto questa intervista, ha iniziato a fare richieste al Ministero della Giustizia, che ha mandato gli ispettori. Che cosa risponde il procuratore di Bergamo, Bergamo News, che gli dice, procuratore, ma ci stanno arrivando gli ispettori del Ministero della Giustizia in procura? Ho saputo di essere accusato dalla stampa, ciò significa che il peccato lo fanno in tanti e non solo il sottoscritto. Ditemi voi se questa è una situazione possibile con l'inchiesta Covid di mezzo, invece, quindi questa è la situazione del bavaio Cartabia, Marta Cartabia è stata una stimatissima giurista, è stata Presidente della Consulta, eccetera, diciamo, probabilmente non ce la ricorderemo come la migliore Ministra della Giustizia della storia di questo Paese. Grazie. Grazie Giuseppe. Gian Piero Moscato aveva lasciato la parte della 1 bianca, dimmi se vuoi tornare su quello, se no fare un commento veloce su... No, ci torno su quello, nel senso che se ci fosse un caso di cronaca come quello, la banda 1 bianca faceva delitti che avvenivano sulla strada, quindi il bavaglio di non ci sarebbe, sui 23 omicidi, sui 100 ferimenti, ovviamente non ci sarebbe nessuna riforma cartabia che può impedire di raccontare i fatti. Ovviamente sulla fase successiva, quando poi ci si arriva invece a identificare che ci sono dei problemi, poliziotti. Ecco, il rischio di questa riforma qua, probabilmente ci sono stati dei casi in cui abbiamo notato che c'era un tentativo di bavaglio su fatti che coinvolgevano funzionari dello Stato o divise, perché per un malinteso senso dell'onore si tendono a occultare queste notizie. Quindi non so che cosa succederebbe adesso con questa riforma. Poi, come diceva Giuseppe, non c'è bavaglio che tenga se ci sono i giornalisti. A volte il bavaglio funziona perché ci si fida troppo delle fonti, che molto molto spesso diventiamo molto vicini alle fonti. E faccio il caso di Federico Aldrovandi. Federico Aldrovandi fu massacrato dai poliziotti, ma poliziotti affidabili in assenza di un sostituto procuratore della Repubblica che andasse a vedere il luogo del delitto. Non ritenne di muoversi per una ragazza di nemmeno 18 anni morto. Quindi non andò a verificare che questo era stato massacrato. Se non ci fosse stato internet, la potenza delle foto del tavolo anatomico dove il figlio era veramente violazio, se la madre non avesse postato le foto per la stampa Emiliano Romagnola, mi ci metto in mezzo anch'io, sarebbe morto per un collasso cardiocircolatorio dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti. In questo caso il diritto all'oblio sarebbe stato garantito in partenza. Qualcuno aveva deciso che non si doveva sapere. Grazie. Non so Costanza Matteuzzi se vuoi aggiungere qualcosa anche rispetto a questo ultimo giro. Ma allora rispetto all'oblio sicuramente vi posso dire che gli archivi cartacei, il garante si è già pronunciato a più riprese, è stato abbastanza chiaro, ho detto beh quello lasciamo lo stare, d'accordo? Anche perché diventerebbe veramente molto difficile. Sull'oblio mi permetto solo di aggiungere alcune indicazioni di ordine generale che sono state date proprio dal garante della privacy che in maniera abbastanza netta ha detto, ha dato ulteriormente delle linee guida dicendo appunto che, cioè scusatemi non linee guida, ha fatto dei provvedimenti dove ha di nuovo indicato alcuni aspetti importanti che riguardano il fatto che ci siano appunto determinate tipologie di, come dire, per determinate tipologie di reati dove ci deve essere una particolare attenzione anche per le vittime. Questo perché in alcune occasioni si era verificato appunto il caso che ci fossero delle notizie che sparivano rispetto appunto a dei reati di mafia, di soggetti condannati tra l'altro, ma lì in quel caso era legato semplicemente all'esercizio dell'oblio, anzi alla deindicizzazione delle vittime di questi reati. E in secondo luogo appunto per interesse pubblico l'oblio non si può esercitare ovviamente per quei reati che sono di matrice terroristica e di stampo di associazione mafiosa perché appunto laddove condannati l'interesse pubblico permane. Quindi per questi non c'è l'oblio, cioè non c'è nemmeno la deindicizzazione. Mentre per altre tipologie di reati, per esempio la persona, diciamo l'uomo qualunque che appunto compie un reato dopo un tot di anni, che ha scontato la sua pena eccetera eccetera, si è riabilitato, in quel caso logicamente anche la Corte di Giustizia Europea è molto chiara su questo e c'è totalmente appunto la possibilità di esercitare la deindicizzazione. Ecco, questo sì. Grazie. Grazie, è utilissimo. Allora, abbiamo ancora 12 minuti, facciamo come in procura due domande Massimo, perché poi abbiamo i saluti dell'assessore. Non so se ci sono, nel caso dovete venire qua. Allora, grazie mille a Costanza Matteuzzi, Gian Piero Moscato, Silvestro Ramunno, Giuseppe Pipitone. Lascio il microfono all'assessore Ruggeri per un saluto e grazie per essere arrivato, anche se sappiamo che avevi qualche impegno in concomitanza. Sì, esatto, infatti dovevo venire questa mattina, poi ho qualche impegno in concomitanza, non mi devo da lì perché avevo paura con la cassa di avere questo effetto qua. Infatti, tenevo a fare un saluto a tutti i nostri ospiti, a tutti quanti voi, da parte dell'amministrazione. Ormai da molti anni l'amministrazione di Casalecchio investe su Politicamente Scorretto e insieme alla Regione, e devo dire che è stata una scelta lungimirante perché un pochino di anni fa era un tabù nel nord Italia parlare di queste tematiche, parlare di criminalità organizzata che si infiltra negli enti pubblici, si infiltra nella nostra società. Invece, purtroppo, però non è che non bisogna affrontare le cose perché sono brutte, le cose anche se sono brutte, bisogna affrontarle. Invece, insomma, è poi venuto fuori negli anni, col processo a Emilia sicuramente in testa che la criminalità organizzata c'è e c'è anche qui. E quindi io credo che questa scelta fatta ormai parecchi anni fa, non mi ricordo esattamente quanti, Laura, forse 2005, esatto, mi ricordo che ero un ragazzino quando partì, è stata una scelta lungimirante che continuiamo con convinzione perché pensiamo che sia giusto, uno, tenere l'attenzione con le tante iniziative che vengono fatti e due, anche creare dei momenti di confronto e di formazione tra dei professionisti come siete tutti quanti voi per essere preparati ad affrontare certi argomenti che certamente noi, sì, siamo meno preparati dalle nostre parti a riconoscere perché è chiaro che anche le persone per bene, diciamo così, che non hanno dimestichezza con questo tipo di tematiche, non sempre riescono a riconoscere al volo sia quando si fa il giornalista che quando si fa l'amministratore, riescono a riconoscere al volo chi sia di fronte, se è qualcuno che vuole infiltrarsi e credo che questi momenti di formazione siano davvero una cosa importante. Poi insomma sapete che la regione su questo tipo di attività reste parecchio, chiudo dicendolo, ricordandovi quando vedo sempre al celebrazioni della Uno Bianca la Zecchia, adesso non so se l'avete già detto prima, ringrazio sempre la regione per aver digitalizzato tutte le carte processuali, aver permesso i fondi per averlo fatto perché è chiaro che avere dei processi che magari vengono riaperti a volte su alcune tematiche che sono tutti cartacei, avere degli atti tutti cartacei diventa un pochino difficile diciamo andare a consultarli sia per chi fa giornalismo sia per chi lavora nella giustizia, se invece tutte le carte, anche dei processi passati vengono digitalizzati è più facile avere giustizia e anche riuscire a interconnettere delle figure che a volte compaiono in vari tipi di processi. Quindi io vi ringrazio davvero per la vostra presenza, ringrazio i nostri ospiti e ringrazio Sofia che ci conosciamo da lungo corso, da tanto tempo e quindi davvero grazie grazie a tutti, anche da parte del sindaco Bosso porto i miei saluti. Grazie a Matteo Ruggeri, a questo punto facciamo la pausa un po' prima, ci rivediamo tra 20 minuti di Massimo che c'è la seconda parte fino a l'una, poi ci siamo qua fuori.